Buonasera amici di Nova News 24, l'ex concorrente del GF VIP è uno dei volti di forum dove, accanto a Paolo Ciavarro e altri conduttori, segue le vicende e i casi su Canale 5 e Rete 4. Non solo la televisione, ma anche la radio per Donna Maria, che è speaker su Radio Z. Proprio durante la fine di alcuni turni in radio, Edoardo ha conosciuto una ragazza che si professava sua fan, nascondendo il suo reale interesse. Il ragazzo si sarebbe trovato di fronte alla ragazza che avrebbe iniziato ad offendere la storia d'amore dell'ex Geffino e a criticarlo perché non avrebbe dovuto pubblicare la sua ultima. Canzone che conteneva riferimenti alla relazione con Antonella Fuà ex fidanzata. E' stata un'esperienza non molto carina, sono tornato a casa che tremavo dall'ansia punto sono stato aggredito da questa persona con la scusa di portarmi un regalo sotto la radio. Ha raccontato Donna Maria, rivelando che la ragazza lo avrebbe poi accusato di averlo a sua volta aggredito punto. Fortunatamente sotto la radio ci sono le telecamere e abbiamo tutto, ha concluso lui, dopo averla riconosciuta tra i suoi follower su Instagram. Invito questa persona a sparire per sempre dalla mia vita. Insomma, brutta esperienza per Edoardo. Amici e amiche, diteci cosa ne pensate voi e seguiteci sempre su Nova News 24. Grazie a tutti.